Il suo cuore si è fermato in un'area di sosta lungo l'autostrada del Sole, a salvare un sessantenni volontari della Croce Bianca di Arezzo. Si fa questa attività per cercare di fare qualcosa per gli altri, poi alla fine sono sempre gratificazioni che ti permettono di andare avanti. È successo nella notte lungo il tratto aretino della 1. L'uomo autista di un tir ha accusato un malore e si è fermato nell'area di sosta di Badialpino in direzione sud. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I primi ad intervenire sono stati gli operatori della Croce Bianca. Siamo arrivati là, questa persona era in piedi nel parcheggio che ci aspettava tranquillamente. Come è salita un'ambulanza ha cominciato a riferirci quali erano le problematiche. Dopo pochi istanti, mentre parlava, ha cominciato a perdere coscienza, non era più collaborante. Lì ci siamo subito accorti insieme alle colleghe che comunque qualcosa stava succedendo. Ha smesso di respirare e quindi lì abbiamo avvisato prontamente la centrale del 118 che ha inviato subito l'automedica con medico, infermiere, con i sanitari. E abbiamo iniziato le manovre di rianimazione. Attimi lunghissimi in cui si sono ripetute le manovre con le piastre collegate per tre diverse scariche. Già la prima volta sembrava riuscisse a riprendere un po' le funzioni vitali, però subito dopo è riandato in arresto. Il defibrillatore ci ha fatto riscaricare nuovamente e poi dopo non riprendeva. A quel punto abbiamo continuato comunque tutte le manovre fino a che abbiamo scaricato la terza volta e da lì siamo riusciti a stabilizzarlo. Poi sono arrivati i medici che hanno fortunatamente stabilizzato il paziente e siamo riusciti ad arrivare al San Donato di Arezzo. Il 60enne è stato trasportato all'emodinamica dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso, vivo e cosciente grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Cosa avete pensato quando il battito ha ripreso? È stata una bella liberazione perché insomma da vederlo parlare con noi, da vederlo in quelle condizioni, per quanto uno possa essere preparato, per quanto uno si possa comunque preparare, non si è mai preparato abbastanza.